Infortuni, malattie professionali, ammortizzatori sociali in aumento. I dati INAIL elaborati da CGL confermano che nell'economia riminese il lavoro resta un fattore critico sul quale mancano politiche adeguate. In provincia di Rimini aumentano gli infortuni e i decessi sul lavoro nei primi mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 e quanto emerge dai dati INAIL rielaborati dall'Osservatorio Permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali curato da Carlo Fontani per CGL e patronato Inca Emilia Romagna. In particolare nel territorio riminese si riscontra un aumento di morti per causa di lavoro del 12,8% con 5 infortuni mortali, aumentano del 6,3% gli infortuni sul lavoro con 2019 denunce. In generale la fascia di età dove si è concentrata la maggior parte degli infortuni è stata quella tra i 41 e i 65 anni e il settore che in provincia di Rimini conta il maggior numero di infortuni è quello della sanità e del sociale col 10% sul totale che supera l'edilizia con il 9,3%. Per quanto riguarda le malattie professionali, il dato a maggio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 conta già 201 denunce, si tratta in questo caso di un aumento del 20,4%. Aumenta inoltre nello stesso periodo l'utilizzo della cassa integrazione con il più 134,6%. Nel 2024 siamo già a 3.387.011 ore di cassa integrazione utilizzata in provincia di Rimini, uno dei peggiori dati provinciali nella serie storica 2011-2024 al netto della parentesi Covid-19. È fondamentale, conclude la CGL, che il tavolo provinciale su legalità, salute e sicurezza arrivi ad un accordo che impegni sia i soggetti pubblici che privati a non ricorrere ad appalti e subappalti al massimo ribasso ed è essenziale che il committente diventi responsabile della salute e sicurezza lungo la filiera degli appalti come richiesto da CGL, poiché solo così si possono stabilire giuste responsabilità e garantire la protezione dei lavoratori.